Si è svolta la tradizionale caccia alle uova di Pasqua nel giardino della Casa Bianca, la prima del Presidente Trump e della First Lady Melania. 139esima edizione di questa caccia lanciata nel 1878. Protagonisti, come ogni anno, migliaia di bambini accompagnati dai genitori che hanno preso parte ai giochi e ascoltato le favole lette dalla First Lady. L'evento è considerato il suo debutto sociale. Sì, sai il libro? Mi piace molto questo libro perché dimostra che siamo tutti diversi ma uguali. Saremo una nazione più forte che mai, siamo sulla buona strada, detto Trump nel discorso pronunciato dal balcone, affiancato dal coniglietto, dalla First Lady Melania e dal figlio. Saremo una nazione più forte che mai, siamo noi.